Il GSE ha pubblicato i risultati delle prime due aste. Sono risultati che sono indicativi dell'andamento del processo. La prima asta ha avuto circa il 45% della capacità assegnata utilizzata e il 55% non utilizzata. Con la seconda asta questo gap è ulteriormente aumentato perché soltanto il 25% della capacità assegnata è stata utilizzata, il 75% non è stata utilizzata. Questo credo evidenzi immediatamente una difficoltà nel raggiungere gli obiettivi che si sono posti. Difficoltà che sono le classiche difficoltà che conosciamo legate a finanziamenti di impianti, legate a completamento di processi autorizzativi e in alcuni casi anche legati a organizzazioni. La terza asta che si è appena aperta e si concluderà a metà di febbraio circa sarà un'asta particolare perché il GSE ha pubblicato un aggiornamento delle tariffe, aggiornamento legato all'inflazione che va ad incrementare sia la tariffa che il contributo a fondo perduto. Aggiornamento importante perché stiamo parlando di oltre il 13% rispetto al valore delle tariffe e del contributo a fondo perduto precedente. Questo secondo me comporterà che tutta una serie di progetti che sono stati inseriti nella seconda asta sicuramente, ma forse anche molti che erano stati inseriti nella prima asta, verranno spostati nella terza asta. Proprio perché non essendo questo adeguamento, non essendo retroattivo ed essendo molto interessante, è realistico pensare che molte società, molti investitori sposteranno progetti che erano stati già in posizione utile nella prima e nella seconda asta all'interno della terza asta. Come dire che questo creerà all'interno della terza asta probabilmente un numero di progetti molto alto che otterranno gli incentivi. Grazie anche al fatto, come ho detto prima, che una grossa parte del contingente della seconda asta non è stato utilizzato e il GSE prevede che i contingenti non utilizzati si spostino nell'asta successiva, quindi ci sarà spazio all'interno del contingente per accomodare più progetti. Ci sarà l'interesse di molti investitori a entrare in questa in questa asta per usufruire del nuovo incentivo e del nuovo contributo a fondo perduto. È realistico pensare quindi che la terza asta sia un'asta numerosa. Beh, direi che è un po' la risposta viene un po' dalle due risposte precedenti. La terza asta, come dicevo prima, ci aspettiamo sarà un'asta numerosa. Questo da un punto di vista di asta è evidentemente molto positivo. Da un punto di vista poi di organizzativo, realizzazione, quello che avverrà è che stresserà le filiere, perché se noi immaginiamo che tra la prima e la seconda asta sono entrati circa 100 impianti, tanto per fare qualche numero. La terza asta è realistico che, come ho detto prima, un po' per nuovi inserimenti, un po' per trasferimenti dalla prima e dalla seconda asta nella terza, è realistico pensare che la terza asta avrà un numero di impianti probabilmente tra i 70 e i 90 impianti. Prima stima. Se immaginiamo che questi impianti devono essere costruiti in 18 mesi, perché questo è quello che prevede il decreto, possiamo facilmente immaginare che questa affluenza massiva nella terza asta provocherà uno stress della filiera. Stress della filiera che toccherà non soltanto le società di EPC Contracting, come BTS, ma anche tutta la filiera degli approvvigionamenti. Quindi come cercare di mitigare questo? Perché poi di fatto gli investitori si dovranno porre il problema di mitigare. Esiste un unico modo, che è quello di cercare di prenotare in anticipo la disponibilità della filiera. Quindi prendere contatti in anticipo con le società che forniscono servizi di EPC, prendere contatti in anticipo con tutti i fornitori di mezzi e di mano d'opera, per prenotare in anticipo, prima che escano i risultati della terza asta, gli slot disponibili. Se questo non viene fatto, ovviamente questo aggiungerà a carico degli investitori un ulteriore rischio. Il rischio di essere in un momento positivo un'asta favorevole, magari avendo ottenuto gli incentivi, ma non avendo poi la disponibilità della filiera a realizzare gli impianti. E questo è un rischio che normalmente gli investitori non vogliono prendersi. Quindi da parte mia l'unico suggerimento che posso dare è non aspettate all'ultimo momento. Abbiamo tempo da febbraio, quando chiuderà l'asta, fino a maggio, quando verranno pubblicati i risultati della terza asta. Iniziate a prendere contatto con le società sia di EPC che con le società di fornitura delle apparecchiature per prenotare i slot. Questo è l'unico modo per cercare di garantire che la costruzione nei 18 mesi, la realizzazione dei 18 mesi diventi reali, altrimenti è un ulteriore rischio sul progetto.